Allora, inizio questo vlog intanto dicendovi che mi voglio scusare con voi per non esserci stata in tutto questo tempo, in tutte queste settimane, ma purtroppo, come sapete, sono stata a sciare con il mio ragazzo e sciando ho fatto una brutta caduta che praticamente mi ha tornato a letto fino a qualche giorno fa e non ho potuto camminare, poi comunque ho dovuto fare tutte le visite, tutti gli esami, però comunque più, però questa cosa ve la volevo dire che mi volevo scusare, poi comunque se vi interessa vi farò nel prossimo video, ovviamente se vi interessa fatemelo sapere con un commento sotto a questo video se volete sapere più in dettaglio insomma cosa mi è successo, ieri ho fatto un altro esame e oggi vado a prendere i risultati e poi vediamo cosa dicono, adesso devo richiamare anche il dottore perché domani mi scade il certificato che mi ha dato l'ospedale e solo che la visita di controllo poi quella ufficiale ce l'ho il 15 marzo, però non so se posso rientrare al lavoro, allora mi devo far prolungare il certificato in modo che sono aperta fino al 16 di marzo così posso andare alla visita e poi vediamo cosa mi dicono dall'ospedale dottore, allora mi prolunga poi comunque tutto il certificato, lo dovrò richiamare domani perché giustamente mi scade domani e oggi non me lo può fare perché giustamente, comunque voi che avete fatto ieri per la festa delle donne, io assolutamente niente, sono stata a fare la risonanza magnetica poi nulla, sono stata a casa anche perché non sono stata tanto bene nemmeno ieri sera quindi ho preferito non fare niente, è arrivato anche il mio, smettila, è arrivato anche il mio passato non so, andiamo un bocchio in un'ora, bello, e niente, poi mi raccomando se volete sapere cosa mi è successo ve lo dirò fatemelo sapere con un commento qui sotto e poi ve lo faccio sapere nel prossimo video nel frattempo sto coccolando il mio bambolotto, ah nuovo aggiornamento per la casa, forse, forse dico l'abbiamo trovata però non lo so ancora, infatti devo andare anche a controllare nell'email se mi ha risposto la tipa dell'agenzia, smetti, se mi ha risposto la tipa dell'agenzia se mi ha confermato l'appuntamento di sabato per andare a vedere queste due case speriamo di aver trovato quella giusta francamente e niente, io vi mando un grosso bacio, mi raccomando lasciatemi tanti like se vi è piaciuto spero di sì, fatemi sapere mi raccomando con un commento se volete sapere cosa mi è successo tanto poi comunque per la casa vi farò sapere per bene e niente, io vi mando un grosso bacio, ah mi raccomando seguitemi anche su twitter, instagram e snapchat comunque vi lascio i link a tutti giù nell'info box dei miei social e niente, vi mando un grosso bacione fatemi sapere anche quale video vorreste che io facessi e ve lo farò vi mando un altro grosso bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Grazie Grazie